Un caloroso saluto a tutti voi. Voglio ringraziare Blue Rating per il premio che ha voluto assegnarmi e di cui sono particolarmente orgoglioso. Mi scuso per non poter essere presente a questa manifestazione, ma voglio dirvi che questo premio mi ha veramente gratificato e reso felice. Ma c'è una cosa che voglio aggiungere per tutti quelli che fanno questo lavoro e per quelli che possono mettersi in procinto di farlo. Con quello che sta succedendo sui mercati, la grande rivoluzione bancaria, questa professione ha delle potenzialità straordinarie per persone che vogliono impegnarsi per fare qualcosa di importante. Quindi, al di là di quello che è successo sino ad oggi e del premio che è arrivato a me, io voglio dire a tutti i protagonisti del settore che veramente oggi il mondo sta cambiando ed è un mondo dove vedrà i professionisti della consulenza emergere via via sempre di più con un loro ruolo nel mondo del risparmio che crescerà in misura notevolissima. Questo è quello che voglio dirvi, quindi chi fa la professione deve guardare al futuro con estrema fiducia e voglio dire a tanti giovani che stanno facendo altre professioni, che sono preparati e che vogliono fare qualcosa di importante nella loro vita che questo settore sta offrendo delle opportunità straordinarie. Di nuovo un saluto a tutti.